buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 7 novembre 2023 abbiamo tante tante notizie oggi sui giornali resto il carlino corriere adriatico purtroppo abbiamo notizie non molto belle ce ne sono anche alcune confortevoli ma le leggeremo dopo ne daremo evidenza non prima di aver guardato l'almanacco del giorno e vediamo dunque il santo che si festeggia oggi è un nome un po particolare quello del santo di oggi si tratta di san prosdocimo san prosdocimo di padova visse nel primo secolo era un discepolo di san pietro ordinato vescovo a vent'anni giovanissimo operò a padova a vicenza a feltre ad asolo a treviso ottenne molte conversioni inclusa quella del prefetto della provincia di allora che si chiamava vitaliano prosdocimo che era nato ad antiochia visse fino a 113 anni un'età lunghissima sia al giorno d'oggi ma ancora di più allora vivere 113 113 anni quando l'età media era poco più di 40 anni veramente era una vita lunghissima ma in tutta questa vita prosdocimo dedicò il suo impegno ad aiutare gli ammalati ad aiutare i poveri e soprattutto a convertire gli infedeli ed ora diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo oggi diciamo subito che il tempo è brutto brutto cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge ci sarà una graduale attenuazione nel pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi in serata le temperature massime sarà di 19 gradi quindi fa un po più freddo siamo la prima volta che scendiamo come massima sotto i 20 gradi la minima è di 13 gradi quindi ci stiamo avviando verso le temperature autunnali ebbene questo un po è una previsione del tempo di oggi quindi qualche maglione in più non stona ed ora diamo un'occhiata ai giornali a partire dal Corriere Adriatico che apre questa mattina con un esame della viabilità fanese quattro viali del centro storico strade ad alto rischio di incidenti gli attraversamenti pedonali purtroppo sono i punti più critici nonostante i correttivi i numeri non cambiano ebbene le strade fanesi continuano a rimanere ad alto rischio nonostante i provvedimenti assunti dal comune per rendere più sicura la viabilità fanese non cambia di molto il numero degli incidenti che si sono verificati a paragone quelli di quest'anno rispetto a quelli dell'anno scorso nel 2022 gli incidenti sono stati rilevati dai vigili urbani sono stati 276 di cui 164 conferiti e uno mortale quest'anno poco meno sono stati 270 gli incidenti di cui 165 conferiti e uno mortale quindi c'è una pochissima differenza 5 6 incidenti in meno ma ovviamente questo non basta perché le strade fanesi possono essere definite sicure ce ne sono veramente alcune ad alto rischio soprattutto quelle che sopportano il traffico di attraversamento via roma viale piceno viale gramsci viale romagna viale primo maggio sono le vie che sopportano il traffico che scorre al lato del centro storico di fano e si dirige da pesaro a senigallia da senigallia a pesaro e questo dimostra come sia veramente importante una nuova arteria che sopporti che attiri il traffico al di là della costa in modo da così supportare la tranquillità la sicurezza delle dei centri storici dei del centro storico delle vie più di urbanizzate ed ora il lutto il lutto con il quale addirittura apre il resto del carlino addio all'architetto sacro plasmò il volto della città si tratta di gianni la medica ieri ieri mattina all'età di 88 anni si è spento gianni la medica il noto notissimo architetto che contribuì a cambiare il volto di fano a modernizzarlo ma soprattutto dedicò la sua attività alla realizzazione di edifici sacri ecco perché fu definito dal vescovo dal vescovo costanzo micci l'architetto sacro fu l'artefice dei progetti di tantissime chiese la chiesa di fano 2 quella di tavernelle di sterpeti di rosciano di calmazzo di san marco a sansonia san sebastiano a bellocchi sono tutte le chiese che ebbe la firma ebbero la firma della sua progettazione ma poi contribuì anche a ricostruire a restaurare san pietro in episcopio e tante altre chiese al tanti altri edifici ebbene si è spento a 88 anni oltre al monastero delle benedettine a monte giove realizzò veramente tanti altri edifici incluso insieme ad altri due architetti il cimitero dell'ulivo soprattutto riqualificò la passeggiata di sassonia rendendola una delle attrattive turistiche più importanti di fano equiparandola a quella del lido una volta sassonia era una spiaggia di serie b con lui diventò veramente una forza di attrazione per il turismo che giungeva dall'entroterra e quello straniero ebbene fu un architetto che non solo concepì delle soluzioni ardite ma applicò una filosofia dedicata alla tutela dell'ambiente alla bellezza agli stili architettonici e contribuì a realizzare anche la zona sportiva della trave quindi era un architetto eclettico dai molti interessi i suoi funerali si svolgeranno si svolgeranno domani alle ore 15 in cattedrale e vediamo anche sul corriere adriatico l'articolo che lo riguarda è morto la medica il principe degli architetti fanesi una testazione di cordoglio è stata subito espressa ieri da bene comune da luciano benini che tra l'altro è anche un parente di gianni la medica cambiamo argomento ne parleremo ovviamente ancora di gianni perché si saranno poi tanti altri ricordi che lo evidenzieranno come una persona cui fanno deve molto campo largo le condizioni ci sono le primarie non sono indispensabili in questo caso ci sono delle dichiarazioni dell'assessora all'ambiente della cultura cora fattori che interviene sulla politica fanese ebbene cora fattori afferma che occorre lavorare ovviamente per una alleanza che comprenda tutti i partiti del centro sinistra per contrastare il centro destra un'alleanza di campo largo tra 5 stelle partito socialista verdi liste fano ribella e bene comune ebbene secondo cora fattori ci sono le condizioni per giungere ad una intesa con queste forze politiche un'iniziativa che potrebbe anche evitare le primarie perché se poi se si raggiunge un'intesa soprattutto di carattere progettuale di carattere programmatico non dovrebbe essere difficile trovare il candidato sindaco necessario inoltre rivedere il piano strategico rispetto a quello attuato 5-10 anni fa dalla giunta attuale in carica perché nel momento la città è cambiata e occorre rivedere le priorità e le soluzioni da adottare giriamo la pagina e siamo a Fossombrone a Fossombrone beh è successo un episodio un po' inqualificabile c'era un concerto nella chiesa di San Filippo e c'erano fuori i bambini che giocavano a palla pallonate contro la chiesa ovviamente era un concerto lirico la cosa ha disturbato molti spettatori ed è finita sulle giornale pallonate sul muro della chiesa ragazzini disturbano il concerto gli spettatori erano già le 22 ma i genitori dove sono e beh questo veramente è un punto interrogativo da chiarire perché insomma se i ragazzi si comportano in maniera così non proprio civile e beh qualche responsabilità i genitori ce l'hanno pure e poi torniamo a Fano per evidenziare la mostra del Perugino che è stata già annunciata in passato ma merita ancora di essere approfondita perché sarà un evento culturale di grande importanza verrà inaugurata il 7 dicembre prossimo e sarà visitabile fino al 7 aprile quest'anno ricordo nei 500 anni che riguardano Pietro Vannucci detto il Perugino di cui Fano possiede due grandi capolavori a Santa Maria Nuova la pala del Durante la Madonna del Bambino con quattro Santi e la annunciazione due quadri stupendi che furono commissionati dai frati minori quando si trovavano a San Lazzaro e poi trasferiti nella nuova chiesa di Santa Maria Nuova dentro le mura per l'allestimento in sala Morganti il comune ha investito 120 mila euro sarà veramente un evento culturale dell'anno predisposto appunto dal comune ed ora passiamo a Mondolfo parliamo di antenne si parla di ricorsi maxi antenna di via costa ok al ricorso contro il tar il consiglio di stato il comune ha incaricato l'avvocato Valentini di Pesaro ebbene c'è un ricorso al consiglio di stato contro la nuova stazione radio di base di via costa il comune affiderà all'avvocato Aldo Valentini del foro di Pesaro l'amministrazione e la gestione di questo ricorso e ci sarà appunto un nuovo tentativo per fare valere le ragioni le ragioni non è il terremoto quello che in questo momento fa tremare il giornale ma semplicemente un effetto che dovrà essere rimesso a posto aggredisce e insulta i carabinieri è stato arrestato un 19enne già accusato di rapina ha ammesso di essere alterato il fatto avvenuto a Mondavio ne abbiamo data notizia anche nella giornata di ieri era quel ragazzo che doveva mettere la firma e ha trovato la caserma chiusa ed ora non possiamo oggi non rilevare le belle fotografie che appaiono sui giornali per quanto riguarda un episodio atmosferico molto inusuale delle nostre parti un'aurora boreale la foto che qui vediamo è stata tratta a Gabice Mare e ha incorniciato questo cielo rosa che ha assunto delle tonalità stupende una bellissima immagine della natura causata dal sole che ha assunto poi altre intensità in Alta Italia e in Europa e soprattutto nelle zone polari quindi un fenomeno che ha attratto la curiosità degli astrofili ed ora siamo a Senigallia a Senigallia si prendono provvedimenti contro i ladri e i vandali al porto arriveranno le guardie notturne dopo gli ultimi colpi il comune rafforza i controlli l'assessore Canestrari ci saranno più telecamere ebbene ci sarà una guardia notturna contro i ladri e i vandali al porto questa è la soluzione che il comune sta studiando insieme all'associazione Senigallia Servizi per evitare altri spiacevoli episodi oltre a quelli già avvenuti nel ponte di Ogni Santi vi ricordate la fotografia di quel ladro che portava con sé ritratto dalle telecamere che portava con sé un motore fuori bordo appena rubato da una imbarcazione e proseguono le indagini delle forze dell'ordine per dare un nome a questo ladro la cui fisionomia è stata ritratta dalle immagini ma essendo incappucciato ancora non è stato facile identificarlo e poi vediamo anche l'intraprendenza di alcuni ladri vediamo quello che è accaduto a Castelfidardo fanno colazione con le brioche rubate i teppisti nel forno panettiere picchiato è stata una spesa a scrocco quella che hanno compiuto alcuni malintenzionati e addirittura se la sono presi anche con il fornaio al quale è andato un pugno sono alcuni i giovani che ora sono in fuga alcuni sono stati ripresi però dalle spycam e allora per loro insomma sarà piuttosto difficile fuggire alla identità vediamo ora le pagine regionali dove c'è una notizia che riguarda la nostra sanità sarà una corsa a 12 per la progettazione del futuro ospedale la presenza del presidente della regione Marche a Pesaro ieri ha dato un po' un quadro di quello che la regione intende fare per l'ospedale di Pesaro ebbene sono 12 le ditte che ci sono candidate a progettare il nuovo ospedale di Muraglia tanti sono gli studi che hanno partecipato al bando di gara europeo l'annuncio della regione al consiglio monotematico sulla sanità quando inizieranno i lavori? ebbene diamo subito un'occhiata il cronoprogramma verrà rispettato dicono abbiamo chiesto all'azienda sanitaria territoriale di liberare entro il mese di settembre del prossimo anno del 2024 gli stabili che dovranno essere abbattuti per la costruzione del nuovo ospedale quindi la cosa ancora procede non sarà ovviamente realizzato prestissimo comunque si va avanti in termini esecutivi ma c'è un ma c'è un ma perché? perché qua in quest'altra pagina abbiamo le rimostranze del sindaco di Fano Massimo Seri ebbene se Seri se la prende con acquaroli perché è andato a Pesaro ha partecipato appunto alla discussione sul nuovo ospedale Fano chiede da mesi da mesi la presenza del presidente della regione in consiglio comunale per dibattere il tema della sanità ma non è stata mai data risposta cioè non è stato detto verremo, non verremo verremo il giorno tal dei tali no, niente, silenzio assoluto e quindi il sindaco Massimo Seri se la prende e dice attenzione Fano merita rispetto bene che il presidente Acquaroli partecipi al consiglio monotematico sulla sanità a Pesaro rimane però il fatto che Fano chiede da mesi un consiglio monotematico con la presenza dei vertici regionali ma a questa nostra richiesta non è stato ancora dato nessun riscontro attenzione perché Fano come Pesaro ha un'amministrazione diversa da quella della regione ma questo non fa sì che la regione insomma si disinteressi della terza città delle Marche con 60.000 abitanti ed ora passiamo ad altre notizie vediamo questo articolo che riguarda Colombarone mini rondò sperimentale Colombarone ora è più sicuro questo tratto di strada dove sono accaduti diversi incidenti la rotonda di Annes ha il placete di comune e del parco e già se ne chiede un'altra comunque è partito ieri il cantiere per il rondò sperimentale all'incrocio tra la Stetale 16 e la strada San Cristoforo all'altezza della chiesa parocchiale di Colombarone a eseguire gli interventi è un'impresa incaricata da Anas mentre il progetto è dell'architetto Gabriele Caimano già direttore dei lavori per quanto riguarda la ciclovia aggredì compagno e poliziotti ora farà lavori utili è una donna è una donna è una albanese è una rumena scusate è una rumena è una rumena che è andata in escandescenze prima le minacce e gli insulti al marito poi l'aggressione ai poliziotti che furono costretti a usare addirittura il taser per fermare una donna presa da una furia difficile da contenere anche fisicamente era veramente una donna molto esagitata ieri la sentenza nei confronti della donna che era finita a processo per resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate la donna ha patteggiato la pena finendo indirezzata ai lavori socialmente utili davanti al giudice monotecratico è comparsa questa donna rumena di 36 anni veramente una furia della natura vediamo anche la pagina di Urbino che riguarda le emergenze rispetto al prossimo festività di Natale ci sono 17 milioni di avanzo che verranno ripartiti è stato convocato oggi il consiglio comunale di Urbino alle ore 17 diversi sono i punti all'ordine del giorno tra cui l'audizione del presidente Laura Ottaviani della partecipata AMI-SPA desta particolare attenzione l'applicazione dell'avanzo di bilancio di amministrazione 17 milioni accantonati 10 andranno ai fondi vincolati 6 ai fondi destinati a investimenti 33 mila e fondi non vincolati oltre a un milione sono ripartizioni queste che vanno poi a finanziare alcune opere vediamo che ci sono 230 mila euro che vanno a finanziare la gestione dell'ambito sociale l'avanzo destinato invece alla manutenzione delle strade è di 90 mila euro e questo è l'ultimo articolo che riguarda il Corriere Adriatico ora procediamo con il resto del Carlino vediamo il volto il volto ancora sereno dell'architetto Gianni Lamedica che sembra che guardi lontano ebbene è stato un architetto che veramente ha guardato lontano ha guardato al futuro è stato l'espressione veramente dell'architettura moderna dando un volto nuovo alla città gli uffici della polizia locale all'ex caserma Paolini è una richiesta proposta dell'assessora alla polizia locale Sara Cucchiaini la quale dice che l'attuale caserma è troppo stretta per l'organico della polizia locale sarebbe molto utile poter utilizzare quegli stabili abbandonati della caserma Paolini ma qui ovviamente occorre prima acquisire questo grande bene culturale dal demanio l'intento dell'assessore Cucchiaini l'idea è ristrutturare l'ex palazzina a comando quella che si affaccia su Viale Gramsci che è veramente uno stabile di rappresentanza molto molto bello addio alle primarie se candidiamo Fanesi un altro articolo di politica in vista delle prossime elezioni amministrative in questo caso parla Federico Perini consigliere comunale del Partito Democratico ebbene questa è la prima volta che c'è una candidatura che emerge dal Partito Democratico ed è la candidatura dell'attuale vice sindaco Cristian Fanesi se tutti fossero d'accordo a proporre Fanesi come il prossimo sindaco della città si potrebbe fare a meno delle primarie e questo potrebbe essere già un punto di incontro con le forze di sinistra quelle di Ribella quelle del Partito Socialista quelle del Movimento 5 Stelle insomma quella parte della sinistra che in questo momento non combacia con il centro-sinistra che al governo della città e quindi c'è un appello a queste forze perché il centro-sinistra intero si ricompatti per contrastare il centro-destra un articolo di cronaca fiamme a bellocchi un container a fuoco c'è stata un momento di paura ieri intorno alle 18 in via Enaudi nella zona industriale di Bellocchi dove un contenitore colmo di scarti di legno e carta è andato a fuoco per cause ancora in via di accertamento ebbene in un primo momento alcuni dipendenti di un negozio hanno tentato di spegnere l'incendio con mezzi di fortuna ma poi si è dovuti ricorrere ai pompieri i quali hanno in breve domato le fiamme casa di comunità di Mondolfo avvia i lavori per 400.000 euro c'è stato un sopralluogo del sindaco con la direttrice dell'azienda sanitaria territoriale nell'ospedale Bartolini ospiterà i medici di base pediatri e infermieri partiranno dunque entro pochi mesi lavori di miglioramento sismico per un totale di 400.000 euro del Bartolini destinati ad un salto qualitativo della casa della salute e della casa di comunità una struttura essenziale per il centro di Mondolfo ma anche per tutto il comune e per la zona limitrofa dell'entroterra e intanto Montemaggiore pensa al Natale con la Proloco quasi tutta rinnovata e vediamo qui i volontari della Proloco una entità di cui non si può fare o meno per risolvere tanti problemi e così realizzare tante iniziative tante manifestazioni ed ora siamo ad Urbino ad Urbino il vento forte ha sradicato un lampione che si è abbattuto sopra un'auto il dramma sfiorato il mezzo parcheggiato in Viadini sarebbe stato utilizzato pochi minuti dopo da una mamma con un bimbo molto piccolo per fortuna tutto si è risolto molto molto bene ma il vento ha imperversato anche in altre parti del territorio comunale ad Urbino un grosso albero cade a Gadana ebbene il telefono dei Vigili del Fuoco ha suonato circa 300 volte anche nella giornata di ieri dove il vento ha spazzato ancora con forte intensità molti luoghi della provincia e poi abbiamo un grande articolo un articolone che occupa tre quarti di pagina sempre riguardante a Urbino si tratta di un intervento di un articolo rievocativo di una fabbrica di coltelli di una fabbrica di coltelli con il bicione di sconti di sconti erano questi coltelli made in Urbino ebbene oggi una rarità questi coltelli erano stati prodotti nel centro storico la fabbrica viene chiusa nel 1970 faceva troppo rumore ma era una fabbrica che costruiva coltelli di grande grande qualità un maglio enorme vediamo colpiva il metallo generando vibrazioni fortissime per spostare lo stabilimento la proprietà chiese al comune di pagarla una proposta che fu rigettata comunque una proposta che ormai lascia il tempo che trova la ditta non c'è più però ci sono ancora questi coltelli che non solo così definiscono la qualità del prodotto ma costituiscono anche l'attività così innovativa generativa della economia urbinate passiamo a Fossombrone biblioteca Passionei il futuro è incerto progetto comune all'attacco perché è sfumata la possibilità di ottenere un finanziamento per il restauro purtroppo questo progetto non è andato a buon fine era un progetto che magari ha fatto un po' il suo tempo perché è stato fatto qualche anno fa quindi non è stato finanziato dal governo e l'amministrazione ha perso dei soldi ed ecco perché progetto comune va all'attacco del comune in merito a questa perdita era l'ultima notizia a questo punto chiudiamo i nostri giornali dandovi appuntamento come sempre a domani alle 7 per una nuova rassegna stampa grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti